La mia storia con l'ansia è una storia di quasi dieci anni. La mia vita si era ridotta a stare a casa, vedevo tutto quanto crurlarmi addosso e finché ho deciso di traprendere questo percorso ho capito il mio meccanismo, quello che portava avanti il mio malessere. Ho imparato a saper stare con la mia ansia. Non nego che ero scettica all'inizio, però lo capisci subito quando il terapeuta è umile, sa lavorare, sa di cosa parla, dal voler veramente divulgare un qualcosa di nuovo. Ok, io do il benvenuto oggi a Francesca che è qui con noi. Intanto sono molto contento che Francesca abbia voluto partecipare a questo nostro incontro di oggi proprio per potervi un po' trasmettere il suo vissuto e la sua esperienza con il lavoro che abbiamo fatto insieme. Noi abbiamo fatto un percorso di dieci sedute che è durato circa tre mesi perché poi abbiamo intervallato un po' le sedute per dilazionare, vedere un po', allungando un po' le tempistiche come andava e poi ovviamente il nostro protocollo di lavoro a casa che è stata una parte poi essenziale del percorso stesso. Sì, assolutamente. Adesso io chiedo a Francesca un po' di raccontarci il punto d'inizio, quindi di tornare un po' indietro nella mente a come ha preso questa decisione, che momento era, che difficoltà erano presenti nella sua vita in quel momento. Allora, diciamo che la mia storia con l'ansia è una storia di quasi dieci anni e ovviamente nel corso di questi dieci anni ho intrapreso un percorso di psicoterapia che è durato tantissimi, tantissimi anni, sei, sette o credo più o meno così, senza avere dei risultati concreti, tangibili. Tant'è che il culmine della mia ansia arriva quest'anno con un forte periodo di ansia, stress, in cui la mia vita si era ridotta a stare a casa, non uscire, non andare al lavoro, sono mamma di una bimba e avere difficoltà nella gestione della bimba, nella gestione proprio del quotidiano, non riuscivo più a stare da sola, fare le cose in autonomia, io che sono una persona abbastanza libera, autonoma, sono una piccola imprenditrice, ho la mia attività, quindi vedevo tutto quanto crurlarmi addosso e ovviamente sono ricorsa, dico ovviamente perché come prima forma di aiuto ho sempre ricorso poi all'utilizzo di psicofarmaci che devo dire nel mio caso come primo approccio iniziale sono stati di aiuto, ma man mano più passavano i mesi più mi rendevo conto che c'era qualcosa, c'era qualcosa che io dovevo fare, potevo fare e da lì è iniziata la mia ricerca un po' su internet, un po' sui social e finché non incontro i tuoi video in cui io rimanevo essere fatta perché dico no, non è possibile, c'è qualcuno che realmente capisce quello che sto provando cioè lo sa spiegare in maniera così semplice e chiara, qualcuno che può capire, da lì non ho esitato assolutamente perché credo fermamente che il migliorare noi stessi sia la prima forma di autocura e ho deciso di intraprendere il percorso iniziando questo percorso nuovo sicuramente rispetto a tutte le precedenti terapie fatte ed è stato un percorso che veramente ti fa cambiare prospettiva, cioè ti amplia le possibilità, le tue possibilità Io mi ricordo molto le fasi iniziali dove mi ricordo quanto era forte il tuo intervenire nei momenti di ansia mi ricordo i messaggi appunto che ci siamo scambiati in quei momenti, proprio notavo questo aspetto di dover fare qualcosa come se l'ansia ci spingessi a dover fare qualcosa per mandarla via, per placarla, per stare meglio e noi siamo partiti proprio diciamo a bomba sin da subito, proprio da quei primissimi messaggi, dai nostri primissimi incontri e quella secondo me è stata una parte importante ecco, ti voglio chiedere, andando avanti mano a mano nel percorso qual è stato lo switch importante secondo te che ti ha permesso poi di ottenere il cambiamento che ho ottenuto e che poi ci parlerai? Allora, innanzitutto il primo switch importante è prendere consapevolezza cioè prendere consapevolezza di questo mio interventismo del voler a tutti i costi, di non volere a tutti i costi provare disagio, provare sensazioni spiacevoli la stessa ansia in se per sé io con il percorso ho proprio capito il mio meccanismo cioè quello che portava avanti il mio malessere, lo aumentava, lo prolungava nel tempo questo è stato proprio lo switch primario e da lì poi parte il motore del cambiamento una volta che hai preso consapevolezza Atwi, sempre sotto guida sotto percorso, insomma, dei cambiamenti ma fino ad ora nessuno mai ne aveva fatto notare determinati meccanismi per me, per la mia storia è stato fondamentale capire come la mia ansia funziona che è un po' come tutti poi ognuno ha le sue, come si dice, ai suoi modi le sue peculiarità le sue peculiarità, esatto e quindi quello per me è stato un giro di chiave un giro di chiave e poi il non intervenire in realtà è stato l'inizio del cambiamento l'inizio del cambiamento perché come tante volte, anche tu dici nei tuoi video intraprendere una lotta è controproducente ecco, questo percorso ma nessuno mai a me aveva fatto notare proprio questo questo modo questo nuovo modo di vedere di approcciarti al disagio a un'emozione a una sensazione è un lavoro che va rinnovato costantemente certo però è stata una bella scoperta tu adesso che cos'è che ti porti più con te? qual è il cambiamento più che proprio hai notato di più su te stessa nel tuo modo diverso di affrontare le cose nel tuo modo di sentirti ecco che cosa ti porti? allora sicuramente una maggiore consapevolezza una una maggiore fiducia nelle mie capacità e una una prospettiva migliore nell'intraprendere le le varie difficoltà una nuova prospettiva in questo questo mi sento migliore in questo sento di avere uno strumento in più rispetto a prima sicuramente ecco una cosa che tu mi hai sempre sottolineato è un po' questa la la sentirti in grado di padroneggiare più strumenti più risorse personali che è qualcosa che prima facevi fatica negli altri percorsi sì assolutamente cioè prima andavo in panico eh ero totalmente immersa nel disagio una volta che è arrivato il disabito non si fa più nulla si ferma tutto si ferma il mondo accantoni tutto invece invece ho imparato a a camminare con la mia ansia a a saper fare a saper stare con la mia ansia e ripeto è un allenamento che va costantemente allenato mi ripeto un po' però è così però è un nuovo modo un nuovo approccio una una risorsa una grande risorsa sono belle le tue parole perché mi permettono proprio di sottolineare un aspetto che io ho sempre posto molta attenzione che tendenzialmente noi potremmo avere l'illusione di dover rimuovere l'ansia per stare bene anch'io ce l'ho avuta per tanto tempo eh certo certo però poi in realtà scopriamo che noi possiamo dirigerci verso ciò che ha valore verso ciò che è importante magari scoprirlo e viverlo ancora più a 360 gradi portando con noi la nostra ansia che non diventa più l'oggetto della nostra attenzione e quindi un problema e quindi ciò verso il quale orientare tutta la nostra attenzione se lo portiamo con noi ci permette di dedicare tempo a ciò che veramente conta quindi l'ansia non è più al centro di tutto no no esattamente questo lo apprendi solamente provandolo può sembrare tanta teoria ma questa cosa l'apprendi ecco quando durante il percorso affronti determinate difficoltà noti i tuoi atteggiamenti è come se levi le le lenti metti le lenti delle lenti nuove di consapevolezza ti accorgi di determinati meccanismi però sei indirizzato nel muoverti nell'andare avanti nel non fermarti questo è un dono prezioso un un regalo un è qualcosa di di bello da avere questo secondo me hai toccato proprio un aspetto fondamentale perché è la differenza tra capire intellettualmente aver compreso qualcosa solo a livello logico e farne esperienza io dico sempre che il cambiamento più profondo passa attraverso il coltivare abilità risorse personali e agire al tempo stesso affrontando quello che la nostra mente da lontano ce lo mostra come molto minaccioso e molto pericoloso però solo facendo un'esperienza notando commentando la nostra consapevolezza notando cosa ci dice la nostra mente notando poi cosa ci presenta invece l'ambiente diretto noi possiamo vedere le discrepanze tra la nostra mente catastrofica e la realtà e quindi vivere poi tornare a vivere questo è stato proprio un aspetto questo è un aspetto che io proprio ci tengo molto a sottolineare perché poi come dici tu passa la responsabilità e le risorse sulla persona cioè non sul terapeuta che è ma sulla persona che ha le risorse per affrontare quello che perché poi ci si sente più sicuri e si sente di avere un bagaglio personale perché fondamentalmente sei stata tu a fare tutto tu a metterti in gioco tu a notare non è stata una consapevolezza che io attraverso la saggezza di chissà che cosa ti ho trasferito in modo magico no no tu sei scesa in campo hai affrontato delle difficoltà hai fatto esperienza hai aggiustato il tiro e ne esercita con delle risorse sì 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 è vero adesso ti chiedo che importanza ha rivestito secondo te il protocollo di lavoro a casa all'interno tra le nostre sedute e quello che tu portavi avanti a casa come ti è stato d'aiuto continuare a masticare lo stesso tipo di atteggiamento anche a casa attraverso i video attraverso gli esercizi nei momenti magari di bisogno nel fare qualcosa di diverso e anche poi soprattutto nel tuo caso spiegaci come è stato anche utile poi lasciarlo esatto allora inizialmente seguivo tutti tutti i vari moduli che andavano in concomitanza con le nostre sedute ed era come un rafforzare determinate tematiche determinati argomenti argomenti oppure esercizi che utilissimi nelle fasi un pochino più acuti degli esercizi di respirazione assolutamente tutt'oggi io utilizzo quegli esercizi di respirazione ad un certo punto per me per per il mio percorso questi video diventavano un modo per controllare la mia la mia ansia me ne accorgevo proprio era come come cercare su google era andare a rivedere i tuoi video ma me ne accorgo perché diventa una una cosa un'urgenza e quindi sempre notandolo in seduta affrontando anche con te mano a mano ho diminuito comunque questo percorso da casa perché rientrava diciamo i vari video la mia voglia di vedere di cercare di trovare una soluzione non non era nei nella ricerca spasmodica nei video insomma servono da supporto sicuramente in momenti durante durante il percorso però per me per la mia esperienza dopo un po' è stato necessario lasciarli questo è un punto questo è un punto chiave perché ci permette di capire che uno strumento va bene in un certo momento e poi può cambiare quello di cui abbiamo bisogno cioè il passaggio che Francesca ha fatto mi permetto proprio di spiegarlo anche al pubblico che ascolta è un passaggio fondamentale perché nel momento in cui noi smettiamo la ricerca spasmodica significa proprio che abbiamo cambiato il modo in cui vediamo e il modo in cui ci relazioniamo al nostro problema non vedendolo più proprio come un problema quindi ogni ulteriore tentativo diventava un modo per sbarazzarmi di qualcosa ma doveva rimanere in vita il fatto che ci fosse un problema nel momento in cui vedo che non c'è il problema io lascio anche tutta l'armatura e quindi mi permetto di vivere le esperienze così come avvengono con gli alti e bassi della vita e apprendo per trasferire a me stessa e agli altri il meglio che posso dare e quindi poi abbandonare anche ciò che in un primo momento mi è stato utile e mi ha permesso di capire alcune cose perché poi tutto potrebbe rientrare all'interno del controllo dell'evitamento che diciamo sono i due veleni dell'ansia quando questo viene vissuto a livello esperienziale come tu hai provato e raccontato puoi permetterti di non cercare noi abbiamo proprio lavorato molto su questo aspetto perché era proprio una tendenza che manteneva il problema stesso sì sì è vero una cosa ti chiedo che tu mi avevi proprio mi hai detto nelle ultime sedute l'importanza dell'essere uno specialista di questa difficoltà ecco questo ti chiedo che differenza ha fatto secondo te come l'hai vissuta tu allora la differenza è enorme proprio perché dalla mia vecchia esperienza ricordo benissimo che andare a scavare nel passato vedere cause capire perché per come alla fine sono risultati inutili praticamente inutili al fine di capire come funzionava questa emozione questo disturbo con me quindi non è stato utile al fine di migliorare una condizione psicologica sicuramente e il fatto di essere uno specialista per me è rincuorante perché è come affidarsi a una persona che sa sa cosa si prova sa cosa si pensa sa tutti i meccanismi che ci sono dietro che c'è meglio di quello una persona che conosce a 360 gradi la tematica e sa come aiutarti anziché appunto un generalista che magari si occupa della qualunque o prende sotto gamba il tuo stare male non viene interpretato nella giusta maniera io ho trovato una una dedizione e soprattutto una differenza abissale rispetto a precedenti psicoterapie o precedenti approcci anche sì questa è una cosa che ci tengo molto uscito su misura uno sembra che siano argomenti generalisti o comunque argomenti per tutti ma in realtà proprio poi la terapia si cuce su di te sul tuo percorso su quelle che sono le tue abilità le tue le le tue insomma oddio non so dire le tue potenzialità sì 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 assolutamente ogni persona seppur rientri all'interno di una difficoltà specifica poi presenta un punto di partenza e un punto di arrivo che desidera avere ovviamente ogni tipo di percorso noi proprio lo parte da una valutazione lo calibriamo proprio sulla persona perché ognuno poi i propri obiettivi i propri valori le proprie aspettative ed è giusto calarsi proprio nella realtà della persona però questo richiede una competenza una valutazione a monte che devi capire bene il tipo di problematica devi veramente entrarci e capire perché potresti dare dei consigli che sono superficiali o addirittura controproducenti esatto io ne ho avuto l'ennesima riprova quando non so se vabbè lo taglierai lo posso dire o comunque ero in una fase di interventismo e chiedevo con urgenza una seduta e e tu lì e mi hai fatto proprio capire dove andare a collocare questa cosa che non era il tuo modo di intervenire perché avessi avallorato il fatto che c'era un problema per me lì è stato nessuno lo fa nessuno lo fa ti danno l'appuntamentino e ok vieni parliamo come se a parole uno potesse consolarti o insomma esatto io lì proprio ho tenuto a farti vedere vari aspetti ovvero il fatto che stavamo tornando dal versante del tieni sotto controllo e potevamo mettere in alto un'altra cosa ma se lì io ti avessi dato l'appuntamento non avremmo appreso niente da quella lezione è vero e quindi ogni intervento è sempre mirato e ha proprio una valutazione specifica sulla problematica in essere e delle volte è anche magari difficile ricevere il fatto che non si ha l'appuntamento però viene fatto proprio in modo razionale perché vuole portare il miglioramento nella persona cioè io ci tengo che tu possa avere gli strumenti non che facciamo le cose che ti danno soddisfazione nel breve periodo ma non ti sono di aiuto poi su un lungo periodo esatto sì ti chiedo un po' un'ultima cosa prima di arrivare a conclusione di questa nostra chiacchierata quest'oggi ti chiedo che messaggio daresti a una potenziale persona che sta ascoltando questo video che magari sta vivendo in questo momento delle difficoltà come le vivevi tu prima di iniziare il nostro percorso che parole utilizzeresti per lei che cosa le potresti dire cosa ti senti di poterle dire allora sicuramente di darsi l'ennesima possibilità perché perché il cambiamento il benessere si può e si deve soprattutto raggiungere con le giuste parole il giusto approccio il giusto percorso si può si aprono veramente dei mondi e di darsi questa possibilità sicuramente io ti ringrazio perché un po' secondo me le parole che potete infondere voi in chi in chi ascolta poi hanno un valore enorme io ci tengo sempre un sacco che possiate essere direttamente voi a raccontare il cambiamento che avete sperimentato come state adesso come affrontate le cose adesso proprio per dare speranza alle persone che ascoltano che molto spesso hanno fatto tante cose si sono impegnate oltremodo le hanno provate di tutte e sembra che non ci siano possibilità no sembra che non possano provare a fare altro invece altro si può fare si può veramente continuare a crescere certo va imboccata la strada giusta come dicevi tu ed è questo il motivo per cui divulgo spiego tantissimo perché ci tengo proprio a consapevolizzare le persone così che possano scegliere però questo è un messaggio che saremmo molto felici che passasse appunto il fatto di non arrendersi non perché in passato si è fatto qualcosa significa che il futuro debba essere uguale sì io ne sono diciamo una piccola prova perché ecco venivo da percorsi precedenti farmaci non nego che ero scettica all'inizio però lo capisci subito quando un terapeuta è umile e sa lavorare sa di cosa parla da come te lo spiega da come dall'enfasi dal dal voler veramente divulgare un qualcosa di di nuovo che è veramente qualcosa di nuovo perché non non esiste questo approccio sembra strano delle volte sembra anche non subito intuitivo no smonta parecchio i nostri meccanismi tradizionali della mente e di come noi funzioniamo però veramente può portare un grande cambiamento e oggi le tue parole proprio da come ne parli dell'ansia stessa e di quello poi che io ti ho visto fare di come ti ho visto affrontare le difficoltà che poi ci sono state che ovviamente rimangono cose che rimarranno tra di noi nel nostro percorso però ne è proprio una grande espressione che con forza ci testimonia proprio questo sì io Francesca ti ringrazio tanto per aver raccontato la tua esperienza e per forse che le persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno che anche loro stanno avendo questo tipo di difficoltà possono veramente tornare a sorridere tornare ad affrontare la propria vita in base a ciò che è importante per loro e i propri valori personali e questo è ciò che ci preme di più quindi ti ringrazio tanto e ti saluto con grande affetto e salutiamo tutti quanti in ascolto grazie